Ciao, io sono Giacomo, il fondatore e direttore di segretibancari.com, il sito per investitori consapevoli e indipendenti. Stiamo parlando di quattro indizi che svelano la presenza di un portafoglio attuale o potenziale disastroso. Vi ho parlato di costi, vi ho parlato di contesto, di emozioni, oggi parliamo di superficialità. Quante volte investiamo in modo superficiale? Il 99% dei casi. Superficialità vuol dire che noi compriamo un investimento solo perché crediamo che andrà bene, perché ce l'ha detto l'amico, perché ce l'ha detto l'esperto, perché la banca fa molta pressione affinché noi lo comperiamo, perché ne parlano tutti. Sai quante persone hanno comperato i titoli high tech a marzo del 2000? Veramente tanti, anche mio padre purtroppo. Questo perché si voleva fare parte di quell'ondata di rialzo che inevitabilmente ci sarebbe stata, ma che purtroppo non si è verificata. Essere superficiali vuol dire, come diceva anni fa Alan Friedman, investire con lo specchietto retrovisore, cioè farsi abbagliare dalle performance passate. Il più delle volte un investimento diventa di moda, diventa cool quando ha reso tanto, ma siccome esiste un fenomeno che si chiama ritorno in media, periodi alti, periodi bassi, se tu vuoi comprare quando un mercato ha performato molto bene negli anni precedenti, è probabile che questa performance eccezionale venga corretta da performance deludenti, un po' come le stagioni meteorologiche se ci pensi. Quando c'è molta siccità è giurato che l'anno dopo piove tantissimo per compensare e portare in media le precipitazioni alla media stagionale. Non essere mai superficiale quando scegli gli investimenti, perché se lo sei stai seminando i germi di un futuro disastro finanziario. Continua a seguirmi.